Eccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi c'è il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Sindaco, nella prima parte di questa trasmissione abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che è il principale progetto destinato a cambiare la città di Padova. Stiamo parlando del tram, abbiamo un po' affrontato gli ultimi passi, quello che è successo da qui all'ultimo mese e mezzo sostanzialmente. Però in questo periodo in cui abbiamo interrotto, Sindaco, la nostra trasmissione per lasciare spazio alla campagna elettorale in previsione delle elezioni europee, c'è un altro grande tema che ha riguardato la città e che ha causato anche un po' di polemiche. Stiamo parlando dell'ampliamento del polo logistico di Ali che è stato approvato dal Consiglio Comunale ma non senza un po' di polemiche. Allora le chiedo, Sindaco, queste polemiche lei se le aspettava, se le attendeva? No, onestamente ho sottovalutato il problema. Nonostante qualcuno, la mia maggioranza, mi diceva attento a questa cosa pericolosa, ho sottovalutato. Perché ho sottovalutato? Prima perché nel tempo che ho fatto questo mese e sapevo che da lì ho bisogno di fare questa operazione, di ampliamento. Per cui non dico davo per scontato, ma era il Giorgio, tutta la grande istruzione, a magazzini e Genova, se prendiamo le spalle, se è lunga, qualsiasi, a magazzini, sì. Alta rotazione, bassa rotazione. Era in zona insuriale e sarà in zona insuriale, per cui per me è in zona insuriale, vuol dire fare magazzini, fare... Io capisco i cittadini, eh, granze, cammini, perché si trovano con un immobili importante. E quando è sorta l'idea, l'idea nella nostra giunta, può creare problemi, può creare qualche problema importante, perché noi abbiamo promesso, e questo voglio essere chiaro. non consumo di suolo, non consumo di suolo sulle abitazioni. C'è una normativa della regione che si chiama SUAP, che può derogare per le aziende. Per cui è piena di legittimità, non siamo capace di dire, non sono capace di dire, non ho ancora imparato qualche frase, ma è ancora importante. Per cui, eh, dopo è sorta l'idea, perché a me è piaciuto moltissimo, ero entusiasta quando qualcuno me l'ha proposto. In semente ero un po' perpresso, ho detto, ma come faccio? In convincere i vinti. La caserma romagnola, caserma romagnola, ricordo che io abitavo a Chiederno, per cui la conosco perfettamente, è una grande caserma, abbandonata da tantissimi anni, e dell'invito, vuol dire dello Stato. E il primo approccio, l'invito, mi risposto, assolutamente no, non la vendiamo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Dopo forse insiste, devo dire, mi è stato regato, la dottoressa da Porta, è convenuto che potrebbe essere interessante. Per cui, coincideva come consumo di suolo esattamente con quella lì, per cui 140.000 metri, quella lì, 140.000 metri, è risolta. È risolta nel senso, è chiaro che non è a Camin, ma è a 10 km, però come principio consumo di suolo, vuol dire che non consumo suolo, perché abbatto quei soldi e quelle risorse della lì e dello Stato, abbatto questa caserma e faccio diventare un parco, un giardino. Che coincide con Bantelli, perché è appiccicato, per cui ero convinto che questa soluzione fosse... Quella corretta, ero convinto di aver trovato, diciamo, la quadra. Inizialmente ero convinto, non ero convinto che l'invito la vendesse, lo Stato la vendesse, ma alla fine l'ho convinto. Per cui per 5 milioni e mezzo abbiamo comprato questa caserma, per cui ero abbastanza tranquillo, poi ho capito che così non era. Che era chiaro che i commentati di Camin dicono sì, bellissimo, però è un altro quartiere, non è un nostro quartiere. Insomma, diciamo un po' egosticamente, ai cittadini di Camin non interessa niente di quello che succede a Chiesa Nuova. E forse sono anche comprensibili da questo punto di vista. Sì, però anche Camin abbiamo fatto delle cose, perché noi investiremo qualcosa come 10 milioni, di cui gran parte sono, quasi tutti, sono belli lì, per mitigare questo problema. Per cui vuol dire trasformare un distributore in parchese, fare un'acciclabile, cercare di rendere qualche altra zona migliore con questi soldi. Abbiamo pensato di fare tutte queste cose e non è stato facile da dire, perché il Consiglio Comunale è durato da ore 18 alle ore 4 e un quarto, la mattina è stato molto impegnativo. Chiaramente la politica fa il suo gioco, per l'opposizione fa il suo gioco, la maggioranza deve tenere in testa questo, non è stato semplice. Però sono soddisfatto alla fine, sono soddisfatto perché io non posso pensare che la lì, una delle più grandi aziende di Palo va dall'altra parte. Dopo è facile dirlo, ma si crea un problema di occupazione, occupazione è lavoro, è una cosa importante, assumere altre persone a tempo indeterminato, dando qualità. È un'azienda che non sto facendo, pensate nel tempo ero mio concorrente, però sono, mi onora essere stato amico di Francesco Granada, anche dei figli. E per me è stato un momento difficile, sapete, quando ho chiesto queste risorse, perché non capirono perché chiedo queste risorse. Sono tanti i soldi che abbiamo chiesto loro. Pensando ai diritti acquisiti per le gare, invece ho capito che dopo è il Consiglio Comunale che dice. Per cui per me è stato difficile portare avanti, però sono sicuro che è anche una cosa positiva. Mandare via lì, mandare su un altro comune, ma Mario Dimitro non va bene. Credo ci sia in gioco forse anche la competitività di un territorio, di un comune come quello di Padova, che può contenere al suo eterno aziende grandi e importanti. Io capisco i Comitati, capisco, perché forse anche a me avrebbe dato fastidio, però io devo pensare bene come. Però vuol dire anche lanciare un messaggio a livello nazionale, non venite a Padova perché non vi accogliamo, perché vi creiamo un problema. Allora, invece il messaggio sarà, venite a Padova, però dovete pagare, nel senso che l'ambiente va tutelato, perché l'ambiente è una cosa importante. Non mi possono dire gli ambientalisti che non abbiamo pensato all'ambiente, abbiamo piantato 20 mila alberi grandi, stiamo cercando di fare il possibile. Raccolta i fiori di Firenze, siamo saliti moltissimo. Pensiamo all'ambiente e come pensiamo all'ambiente? Penso che nessuna amministrazione ha pensato all'ambiente come noi, per carità, e che mi ha dato anche le sensibilità in questo periodo. Però stiamo pensando all'ambiente in maniera importantissima. Per cui siamo state una delle nuove città dell'Europa che è stata candidata per l'ambiente, per portare consumo zero. Veramente è importante quello che facciamo e sono orgoglioso. Ed è anche giusto, Sindaco, che un'azienda importante che fattura molto dia in qualche modo il suo contributo allo sviluppo e anche al benessere ambientale della città. Assolutamente sì, infatti stiamo parlando di quasi 10 milioni di euro. Le chiedo però, ritiene che la sua maggioranza adesso sia un po' meno solida di prima dopo questa questione o non ha notato differenze? Non sono tranquillo. Io dico, la mia maggioranza, spesso volentieri anche il primo mandato mi ha detto, ma è una maggioranza eterogenea, che per me è un vantaggio. E' un vantaggio che le persone pensino in maniera diversa. Mi spiego meglio. Qua all'inizio, senza aver portato a casa Armagnoli, c'era molta agitazione. Dopo Armagnoli, perché le abbiamo portato a casa Armagnoli? Perché i gruppi politici, se o no, non va bene, abbiamo trovato una soluzione. Se non fossimo stati incentivati a fare questo, forse non venivano fuori da Armagnoli. Per cui io trovo un vantaggio che le persone pensino in maniera diversa. Trovo uno l'altro. L'importante è dopo fare sintesi, trovare l'accordo. E penso che in questi anni, adesso sono il sindaco da 7 anni, penso che abbiamo fatto tantissimo, tantissimo. Lo dico con orgoglio, perché non l'ho fatto solo con i funzionari, con i dirigenti, con il mio gruppo, con gli assessori. Ma non solo. Collaboro, come dico tante volte, ma mi piace dire. Collaboro dal Rettore al Vescovo, il Questore, il Prefetto. Collaboro a tutte le città, la Regione. Io penso che, al di là del dettaglio politico che si fanno per l'edizione, e dopo anche in Consiglio, perché dopo a fine dobbiamo fare cose. La gente è stanca di sentire promesse non mantenute. Le promesse le stiamo mantenendo. E basta fare l'elenco e vedere cosa abbiamo fatto. Un elenco infinito di cose. Infinito. Per carità. Siamo stati bravi a portare a casa i soldi del PNR. Certo, che mi hanno aiutato non poco. Bravi, perché? Perché abbiamo investito nel personale. Perché alla fine, la qualità dell'amministrazione la fa i dirigenti. a fare il sindaco. Se non hai i dirigenti di qualità, che riescono a darti una mano, dati le soluzioni corrette. Ti capitano problemi... Voi date l'indirizzo politico e poi i tecnici... Ti capiscono problemi, è vero? Ogni volta che ando allo stadio e che vedo la curva, voi non sapete che problemi creo da solo. Perché dico, com'è possibile che io sia riuscito a fare una stupidaggia in Italia? Com'è possibile che siamo arrivati a questo punto? Ma veramente dico, sono imbecillo, ho sbagliato qualcosa? Ma però sono io responsabile, non scarico responsabilità sull'altra. Vuol dire che qualcosa non è stato fatto bene, vuol dire che non è stato controllato bene. E ripeto, attenzione, non c'è nessun abuso in termini economico. Sono stati problemi anistativi. Giustamente, ma c'è tutta affermata. Però questa parola ci sta costando molto, sia sotto l'aspetto mio, sentimentale, mio e emozionale. Che anche, credo, sotto l'aspetto economico. Sotto l'aspetto economico costa moltissimo. Ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate, Sindaco della questione dello stadio Ugano, perché è uno dei temi caldi della città e come ci ha appena detto so che la tocca anche in prima persona. Grazie per essere stato con noi in questa puntata del Sindaco Risponde. So che tornerà a trovarci anche domenica, quindi la aspettiamo. Quando parlo in pago, io vado avanti e... Allora, ci riteniamo anche qualche argomento per domenica. Grazie a tutte le nostre telespettatrici, a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. La linea adesso all'informazione di TV7TG, qui alle 20 su TV7 Triveneta, con il Sindaco Risponde. Torniamo domenica alle 13. Una buona serata. Grazie a tutti.